tra i protagonisti più attesi della serata dei duetti Francesco Renga e Checco e ci hanno fatto una sorpresa oggi perché sono qui con noi ciao Checco ciao 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 Francesco Checco io Francesco così ci capiamo anche se no ci confondiamo anche noi senti hai restituito il favore a Renga ma in realtà non del tutto perché adesso gliela combino ancora più brutta perché quest'anno Sanremo me lo volevo guardare sul divano di casa e speravo che il favore glielo restituisse Emma in realtà perché lui venne con me e Emma non solo con me per cui quindi adesso gli sto preparando un agguato per quest'estate gli farò uno scherzetto tipo che stasera stasera lo racconteremo lo racconterò cioè non vuoi far casino no adesso tu concentrati cantiamo ben nato stasera e poi dopo facciamo una sorpresa ho già paura ma no è una cosa bella che ha a che fare con i live magari che ha a che fare con la musica ecco che ha a che fare con la musica no vabbè adesso stiamo ancora capendo però per stasera insomma diremo tutto e sicuramente sarà una bella sorpresa una ragione in più per seguire il festival di Sanremo questa sera si scoprirà un'anteprima ghiottissima che riguarda Imodà e Francesco Renga viaggio baura c'è un uccello lì c'è un uccello un pappagallo dopo lo andiamo a conoscere perché è il pappagallo del dopo festival che viene spesso a trovarci qui in postazione allora ragazzi un giorno credi di Edoardo Bennato questa scelta è sua no di Francesco Renga sì 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 più o meno sì la scelta è caduta su Edoardo Bennato che è un artista un cantautore che ho amato abbiamo amato in realtà tantissimo da subito era il più giovane l'ultimo era quello un po' più avulso dal contesto dei soliti cantautori soliti insomma dei mostri sacri di Andrea era quello più vicino a noi che a quell'epoca eravamo dei giovanotti diciamo e quindi un omaggio assolutamente voluto perché è una canzone tra l'altro meravigliosa sarà una bella occasione per divertirsi per tutto con il mio amico Checco sul palco per averlo costretto a venire di nuovo a Sanremo e quindi sono doppiamente felice per questo ma almeno dal divano di casa l'hai seguito il festival? no 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 ma infatti la cosa bella è di guardarlo da casa che te lo guardi coi tempi giusti mutande mutande bravo con la birra con la birra con la birra con la birra con la grappa però no ma in realtà sono contento perché poi a me Sanremo ha dato talmente tanto a noi Modal ci ha dato talmente tanto che poi quando torni qua nelle vesti di ospite è ancora più rilassante farlo perché credo che l'adrenalina che abbia Francesco in questo momento rispetto alla mia non sia neanche lontanamente insomma paragonabile ecco io vengo qui infatti quando sono venuto ho letto il libro che dicevi no era calmo sì ero calmo ma perché in realtà eri tu lì sul palco l'altra volta esatto quindi io in realtà stasera sono venuto a salutare un grande amico a mangiare nel pesce nel pesce e poi no devo dire la verità sono molto contento soprattutto perché io vabbè io sono un cantautore cantare una canzone che ha 40 anni e ancora la si canta in un momento poi come diceva anche prima mi ricordava Francesco in un momento così delicato cantare un pezzo così importante nel nostro paese quindi di speranza insomma è un inno anche alla speranza no? e a quello che sta attraversando il paese e credo sia anche una bella cosa per cui veramente adesso scherzi a parte sono molto felice di condividere intanto il palco con lui e poi di cantare una canzone bella insomma di un cantautore credo che però poi mi devi dire la sorpresa la sorpresa te la dico no prima ti devi concentrare perché sennò poi mi sbagli la canzone perché abbiamo qualche problema sul testo ma non tanto perché non ci ricordiamo le parole le mischiamo esatto ce le ricordiamo tutte ma le mischiamo troppo ce le ricordiamo però le invece ma dai c'è il gobbo davanti ce ne sono 15 uno davanti uno di fronte anche al di fuori del palcoscenico oppure è tutta una fiction dai dite la verità no 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 anzi è venuto a casa mia ma ha finito il bar è vero non c'è più il bar sono arrivato a casa sua dopo una serata di quelle devastate e gli ho detto no guarda non bevo niente oggi non bevo vabbè magari un caffè mi fa vabbè bevi un caffè sì vabbè un caffè poi vabbè ma una grappettina ma guarda ti faccio assaggiare due grappetti ho qua ed è finita come al solito e non ti invita più insomma no no adesso devo ricambiare farti la cantina la trovare io e lui nel suo locale bene grazie ragazzi grazie a voi in bocca al lupo per l'esibizione di stasera appuntamento presto e grazie infinite per la sorpresa che avete voluto riservare a Radio Bruno ciao grazie a voi ciao a stasera ciao ciao